Sono Francesco Gotti, chef della Nazionale Italiana Cuochi e chef del Bobadiglia di Dalmine che per la competizione si è occupato di valutare il food pairing, quindi l'appaiamento tra i cocktail e effettivamente i prodotti locali. Sì, è stato interessante, nel senso che solitamente il mio ruolo è quello magari di giudicare, di fare da giudice sui piatti. Qua era per me anche una riscoperta per la prima volta provare a vedere questo abbinamento così già particolare di questo moscato di scanso abbinato a del cibo e è stata una bella esperienza, ci sono state delle belle novità. Come valuta lei la missione di fatto di organizzazioni come quella delle terre del Vescovado, quindi quella di tutelare prodotti a chilometro zero, prodotti locali e in certo modo salvaguardare delle particolarità del nostro territorio? Sì, penso che sia la formula vincente per ogni regione, ogni paese la quale ha, come nel nostro caso, nella Bergamasca, nelle terre del Vescovado, prodotti unici e soprattutto rari. E' appunto la nostra missione farli conoscere, farli proporli, in questo caso in consueto, in cocktail, ma anche e soprattutto veicolarli con il discorso legato al cibo, alla ristorazione, a piatti, insomma è tutto qualcosa che può portare solo del successo, può portare a far conoscere queste grandi ricchezze che abbiamo nel nostro territorio.